Maria è la prima salvata dalla misericordia del Padre, lo ricorda Papa Francesco all'Angelus nella solennità dell'Immacolata Concezione, sottolineando che questa festa comporta l'accogliere Dio e la sua grazia misericordiosa nella nostra vita, diventare a nostra volta artefici di misericordia mediante un autentico cammino evangelico. Una festa che per tutti noi, se evidenzia, con i nostri sì quotidiani, riusciamo a vincere il nostro egoismo e a rendere più lieta la vita dei nostri fratelli, a donare loro speranza asciugando qualche lacrima e donando un po' di gioia. È la chiamata ad essere portatori di Cristo e testimoni del suo amore verso chi ha bisogno. Tutto è dono, prosegue il Papa, tutto è misericordia, il tratto distintivo del cristiano. Essa è la parola sintesi del Vangelo, misericordia, è il tratto fondamentale del volto di Cristo e soprattutto quando inchiodato sulla croce perdona. Lì noi vediamo il volto della misericordia divina. Non abbiamo paura, lasciamoci abbracciarsi dalla misericordia di Dio che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più dolce della sua misericordia. Lasciamoci accarezzare da Dio. È tanto buono il Signore e perdona tutto.